Dopo il passaggio del nuovo direttore del Centro Missionario Diocesano di Fano, da Don Giancarlo De Santi, sconosciuto da tutti come il Diso a Marco Gasparini, lo scorso mese sono stati presentati anche i nuovi direttori del Campo Missionario Diocesano, quest'anno in programma dal 14 al 20 luglio. Sono Alessandro Manna, 24 anni, di San Michele al Fiume, e Anna Maria Lotito, 24enne di Fano, i responsabili che avranno il compito di guidare la carovana formata da più di 60 giovani provenienti dal nostro territorio lungo le strade della Diocesi. 5. Le tappe previste nelle parrocchie, lunedì 15 luglio, Isola di Fano, martedì 16, Villanova e Montemaggiore di Coglie al Metauro, mercoledì 17, San Lorenzo in campo, giovedì 18, Fano 2 e venerdì 19 luglio, Sassonia con la partecipazione della parrocchia del Porto. Tre, come sempre, i momenti che i ragazzi vivranno durante la settimana. I tre momenti del campo sono la raccolta, la formazione e la festa finale. La raccolta avverrà alle 9, nella parrocchia che ci ospiterà, quindi i nostri giovani arriveranno con i pulmini e andranno di casa in casa a raccogliere i cibi a lunga conservazione e a incontrare la gente che ci ospiterà. Poi ci sarà il pranzo, sempre offerto dalla parrocchia. Al pomeriggio, verso le 15, ci sarà la formazione guidata dai missionari saveriani, poi la cena ed infine la festa per ringraziare la parrocchia e tutti i giovani che ci hanno accolto e sarà animata da una scenetta, da canti, balli e testimonianze. Il campo ha il compito di far vivere, ormai da circa 40 anni, momenti indelebili dove i giovani partecipanti toccheranno con mano la missione, l'amore, l'accoglienza, l'altruismo e l'ascolto. L'edizione di quest'anno ha come slogan Fai il primo passo, tema trattato da Papa Francesco in occasione del viaggio apostolico in Colombia nel 2017. Sì, le iscrizioni sono aperte dal 1 giugno e rimarranno aperte fino ai primi di luglio, però i posti sono limitatissimi, quindi affrettatevi a iscrivervi. Si possono iscrivere tutti i ragazzi dai 16 anni in su e per iscrivervi potete trovare informazioni sul sito www.eldiso.it oppure guardare la nostra pagina Facebook, Instagram e Twitter anche per avere maggiori informazioni sul campo.